Eccoci in studio, seconda parte di Quarto Tempo e noi andiamo subito a Volpiano. Ci vestiamo d'arancione anche noi, Volpiano il cui simbolo, lo vedi sulle magliette, è la volpe, perché Lorenzo tu mi dici non lo sapevo, la volpe è l'animale, il nome Volpiano è legato alle volpi. Esatto, tipico della zona popolata da volpi in senso metaforico, in senso proprio l'animale, non dire se non è Volpiano. Siamo all'inizio della collina della Vauda e da lì in poi ci sono parecchie, ma ancora adesso ci sono parecchie volpi. Senti Perfranco, tu che sei fra i fondatori di questa realtà? Dal 2007. Ecco, come vi è venuto, come è nata questa iniziativa? Beh, è nata perché il mio figlio e i figli degli altri soci fondatori giocavano in un'altra società e noi ci trovavamo al campo così, però abbiamo notato che tutta la zona del Canavese non c'era nessuna realtà di questo tipo. Fino a Ivrea? Fino a Ivrea e poi a Ivrea non è così interessato a venire verso Torino, arriva fino a Caluso adesso ma già a Castellamonte e l'Alto Canavese loro non vanno a fare così. C'è stata per qualche anno un'altra società che ha cercato di fare così ma poi ha chiuso subito. Parlavi del Borgo Franco? No, c'era il Canavisium, mi pare qualcosa di sì. E quindi abbiamo visto un potenziale bacino inutilizzato perché poi non erano tanti, anche le società di fianco a Torino più che altro prendono gente più facile da Torino perché fanno lavoro nelle scuole più che quelli di fuori. Allora abbiamo deciso di provare a fare questa cosa, abbiamo portato via i nostri figli, abbiamo cominciato a fare manifesti da tutte le parti così, era aprile e noi a settembre avevamo tutte le categorie. Quindi i primi anni sono stati anni veramente di crescita, c'è stato interesse, entusiasmo, tanti genitori che ci hanno dato una mano e noi abbiamo messo in campo under 15, 13, 11 completa, più un po' di più piccoli già dalla prima stagione. Poi siamo cresciuti per qualche anno, abbiamo avuto un momento di flessione perché io continuo a dire a noi quando dobbiamo in qualche maniera stimolarci che siamo stati bravi ad ogni modo a non chiudere, a portare avanti l'attività per sei anni senza il campo perché tanti sono migrati in altre società anche per questo motivo, cioè noi ci toccava litigare con quelli del calcio per gli allenamenti, non per colpa loro, però gli spazi quelli erano così. A giocare dovevamo andare in posti anche distanti, noi per due anni abbiamo utilizzato come campi di casa quelli di Levone che erano liberi, però insomma c'è 25 km da noi, quindi insomma un po' tutto assieme erano delle cose che davano una mano a disamorarsi. Quindi avete tenuto duro e adesso avete un campo. E noi da un anno, dall'inizio della stagione abbiamo un campo, abbiamo anche un bel campo, delle belle strutture. Questo è positivo. Giancarlo, ma quante sono i ragazzi al momento? Al momento sono poco più di 20, 20-25, poi quelli della propaganda, diciamo dall'under 6 fino all'under 12. Perché voi avete 6, 8, 10, 12. Complessivamente i vostri tesserati, i vostri atleti quanti sono? Sono 90. Quindi oltre 90, quindi sì, buono. E arrivate fino all'under 16, l'under 18. Però l'under 16 e l'under 18 non la gestite completamente, diciamo in autonomia. L'under 16 sì. Sì, la 16 però è la 16. Abbiamo dei giocatori del Librea, la 14 sono tutti i ragazzi nostri, anche lì hanno fatto un bel lavoro, perché noi ci siamo trovati a settembre, perché anche l'anno prima avevamo la squadra con altri e questi hanno visto che i numeri c'erano e hanno detto vabbè, noi ci siamo, voi arrangiatevi. Noi 7 ne avevamo e adesso ne abbiamo 24, siamo riusciti a fare tutte le cose obbligatorie e siamo al prossimo anno, è anche una buona prospettiva del prossimo anno. L'under 16 siamo insieme all'Ivrea, che con l'Ivrea è già 3 anni, questo è il terzo anno con cui collaboriamo con varie squadre così, c'è un bel affiatamento e l'under 18, l'under 16 gioca come Volpiano, anche se all'Ivrea, l'under 18 siamo con il San Mauro e giochiamo come San Mauro. Abbiamo queste belle partnership nel nome dell'ovale, perché può fare di necessità virtù. Abbiamo parlato di settore giovanile di propaganda e noi siamo riduci da un torneo storico per il settore giovanile piemontese, che è il trofeo dell'orso di Biella, dove noi siamo andati, perché ve l'avevamo promesso, volevamo raccontarvi anche questo pezzo fondamentale dello sviluppo del mondo del Movimento Valle regionale, quello dei più piccoli e siamo andati a questa bellissima festa che si è svolta domenica a Biella. Prego dalla regia a mandare il servizio. Grazie a tutti. Domenica 16 Barzo, siamo a Biella, il nostro amico Cesare Maia che è qui di casa, cosa sta succedendo oggi qui? Beh sta succedendo un bel, quello che si chiama, si dovrebbe chiamare in un altro modo, ma chiamiamolo un bel rebelot, per usare una parola un po' piemontese. Comunque c'è il torneo dell'orso, Under 12, Under 10, Under 8 con più di 400 bambini sul campo e poi oggi pomeriggio ci sarà Italia-Giappone Under 19, quindi direi una bellissima giornata di rugby, tutta da vivere. Senti, il rugby non solo perché io vedo qui, in realtà diciamolo, abbiamo interrotto che si stava già iniziando un terzo tempo anticipato, è vero? Sulla salamella mi ha interrotto, sì è vero. Qui è rugby, quindi si gioca, si fa amicizia, si parla, si beve, si mangia e ci si diverte. Alla fine della giornata saremo tutti contenti e tutti soddisfatti di quella che è questa bellissima giornata che tra l'altro è una giornata meravigliosa dal punto di vista atmosferico, mentre l'anno scorso purtroppo il torneo dell'orso ebbe la neve per tutta la giornata, oggi abbiamo la primavera, meglio di così. Allora, quarto tempo vi porta bene e noi la vivremo insieme. Bene, grazie a quarto tempo allora. Cosa significa avere un bimbo che gioca a rugby? Significa condividere una passione in comune e significa divertirsi all'aria aperta. Le mamme sono sempre molto preoccupate della salute dei propri figli. Per le mamme che magari sono incerte fra il nostro pubblico, se mandare o meno il proprio bimbo a giocare, perché dovrebbero farlo? Perché diventano più forti anche, nel senso che imparano come la vita in realtà, non è sempre tutto rose e fiori, no? Però in realtà non è che si massacrano, magari cadono e prendono qualche botta in più del normale, però sono anche piccolini, cadono dal basso loro. Quindi prima di tutto una scuola di vita è prima che di sport. Sì, 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 poi è un bellissimo ambiente, bellissimo, sono tutti amici, anche le squadre opposte, poi alla fine fanno saluto insieme, c'è proprio una bella relazione tra squadre, proprio lo sport, è vero, è così. Vi va indire del trofeo dell'orso oggi, quanta roba abbiamo preparato? Guarda, per adesso abbiamo fatto andare circa 40 kg di salamelle e non siamo ancora neanche a mezzogiorno, quindi da adesso in avanti andiamo avanti con gli hamburger, ne abbiamo quasi altrettanti. La giornata promette molto bene. Quindi ce la faccio proprio, ci basta, non è che dobbiamo andare a fare questo? Eh, non lo so se ci basta, se questi ragazzi la smettono di mangiare perché loro mangiano. Tenete qualcosa per noi di quarto tempo che non è che sei solo qui per lavorare? Molto volentieri, se volete il panino ve lo prepariamo subito. A Biella, al trofeo dell'orso, anche i nostri amici della Giuco, chi hai qui con con te adesso? Oggi si sono comportati veramente bene e sono dei piccoli campioni, quindi ho dei piccoli campioni davanti, bambini di 8 anni, 7 anni, 6 anni e il più piccolino 5 anni Lorenzo che si stanno veramente, stanno dando battaglia. Bene. Adesso faremo la finale per il terzo posto. In bocca al lupo per la finale. Crepe. Che soddisfazione dà con questi bambini? Fenomenali, fenomenali, bravissimi. Sono vivaci, esuberanti e in questa maniera qui riescono a scaricare tutte le loro potenzialità. Bravissimi. Ma senti che soddisfazione dà lavorare con questi ragazzini? Beh, è molto bello, è molto bello lavorare con i bambini. Danno grosse soddisfazioni, ma soprattutto perché in un progetto strutturato bene, portato avanti con intelligenza, incentrato su quelli che sono i bisogni del bambino, poi non puoi che ricavarne soddisfazioni indipendentemente da quello che è poi il risultato sportivo. Cioè che qui soprattutto si guarda a formare delle persone? No, si guarda a formare degli sportivi e si guarda a formare anche delle persone che poi entreranno comunque nel mondo del lavoro, della scuola ed è anche scientificamente provato che chi ha fatto sport agonistico ad alto livello, chi è arrivato a fare sport agonistico ad alto livello, poi una volta dentro al mondo del lavoro ha una marcia in più, è capace lavorare in equip, insomma quindi ci sono tante, tante, tante mire positive per far crescere questi ragazzi. Abbiella ha anche i nostri amici di settimo, allora come sta andando? Sta andando abbastanza bene, abbiamo dei buoni risultati. L'Under 10 ho saputo che sono arrivati i secondi nel loro girone, quindi intorno al terzo o quarto posto dovremo giocarci. Mentre invece con l'Under 12 anche lì siamo arrivati i secondi nel nostro girone, però i gironi sono quattro, le squadre sono impegnative perché ci sono Recco e Milano che sono abbastanza avanti, i ragazzi sono abbastanza forti, siamo arrivati i secondi e ci andiamo a giocare dal quarto al sesto posto. Al di là dei risultati sportivi però una festa di sport meravigliosa. Il settore giovanile è la cosa più bella del rugby perché è una festa continua, si gioca a rugby, lo spirito agonistico, ci mettono tutto quello che hanno i ragazzi e fuori i genitori sono splendidi, nessun misterismo, nessuna presunzione, è bellissimo, l'ambiente è bellissimo. Chris De Meijer, allora qui con i suoi rai piccoli dell'asti come è andata oggi? Molto bene, molto contento, ho preso il primo per l'Under 8, terzo per l'Under 10 e mi sembra anche terzo per l'Under 12, sono molto contento, molto bene, bel torneo, bell'ambiente, cosa vuoi più, c'è anche sole. Quindi rugby si conferma occasione di festa per stare insieme, adesso siamo al terzo tempo ormai, è il momento forse più bello ancora di tutta la giornata. Sicuro, sicuro, questo è un tempo molto bello di tutta la giornata, tutti insieme, mangio insieme, altri amici, quello è molto importante. Terzi siete arrivati? Sì. Senti, è stato un bel torneo, ti sei divertito? Sì. Te com'è andato? Fammi la tua valutazione. A me mi è piaciuto questo torneo, però ci dobbiamo allenare ancora di più per arrivare i primi. Senti, intanto però adesso mangiamo perché dopo aver fatto fatica è ora di mangiare, tu hai finito, ti sei tolto la fame? Sì, sì. Cosa hai mangiato? Le crocchette. Buone le crocchette. Sette crocchette. Sette crocchette mi dicono, quindi sei quello che ha vinto e ne ha mangiate di più? Sì. Il campione di crocchette del torneo dell'orso sei tu, come ti chiami? Angelo. Bravo Angelo. Com'è andato questo torneo dell'orso? Molto male. Molto bene. Contro il recco, l'ultima partita, in finale avevamo tenuto la palla sopra, però l'arbitro aveva fischiato la meta, comunque siamo arrivati secondi. È una soddisfazione lo stesso. Sì. L'hai già fatto il terzo tempo? Lo stiamo per fare grazie alla coda, se ci riusciamo. Sei molto affamato dopo questa mattinata di rugby? Lo credo. Allora, buon terzo tempo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie alla g when備amoig ens desslazione. Vi spessare un video, vi spessare un periodo dell'orso che stiamo av GUGOEMETO. Grazie a tutti. 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 Rieccoci in studio dopo questo racconto di questa bella festa, il settore giovanile, tante soddisfazioni, insegna molto stare in mezzo a questi ragazzi. Tra l'altro Giancarlo, so che voi fate anche attività con le scuole, siete riduci peraltro da un open day che si svolgeva proprio sabato. Dimmi un po' come è andato. Ma è andato bene, buona affluenza. Sì, buona affluenza, avevamo più di 50 bambini in campo di tutte le categorie, è arrivato anche qualcuno di grandicello, un paio di under 14 insieme ai piccolini. Che non fanno mai male. Non fanno mai male. Bene, domenica giocano già, non si perde tempo. Una decina di under 6, c'era anche mio figlio che è un under 4, abbiamo mandato lì anche lui. Senti invece Lorenzo, adesso abbiamo parlato di cose belle, però avete il campo, è un po' faticoso, già vi siete conquistati il campo dopo un po' di anni, cosa vi manca ancora? Il campo possiamo ringraziare l'amministrazione comunale che c'è una mano grossissima a raggiungere questo obiettivo. Quello che ci manca non è da adesso, è ormai da due anni che ci manca lo sponsor, noi è due anni che stiamo logicando un barile, come si suddia, stiamo cercando tutte le risorse possibili per mandare avanti a giocare questi splendidi ragazzi. Allora, mi sento di fare per voi un appello, ma lo faccio per voi, ma anche per tutti quelli, coloro i quali hanno sul loro territorio una squadra che porta avanti un discorso di questo genere, che fa crescere degli atleti, ma anche degli uomini, con dei valori importanti dell'ovale, magari pensateci, perché destinare qualche periodo sappiamo che non è dei più semplici, ma dare una mano a fare questa attività è sicuramente lodevole e ripagherà nel futuro. Peraltro, se poi c'è qualcuno che vuole dare anche due soldi a quarto tempo, noi non ci diremmo di dire, al momento siamo senza sponsor, Siamo sportivi, noi non facciamo gli schizinosi, avevamo una birra prima, possiamo passare anche al vino, non è che siamo full acqua, avremmo qualche difficoltà, però nel caso ci accontentiamo. Senti, ma cos'è successo domenica a Biella? È finito tutto? No, perché c'era ancora un pezzo. Mi sembrava che qualcosa manca. Poi ci siamo spostati tutti, eravamo lì sui campi via Salvo d'Acquisto, ci siamo spostati allo stadio di Biella, perché? Perché a Biella si è giocata un'Italia-Giappone fra giovani promesse del nostro ovale, con un po' di Piemonte in campo. Vediamo il servizio che vi ho preparato. Nella giornata del nono trofeo dell'Orso, a coronamento della festa ovale biellese, lo stadio cittadino Lamarmo Rapozzo, ospitato nel pomeriggio di domenica al test match fra la rappresentativa italiana Under-18 e la selezione del Giappone Under-19. La rivincita dell'incontro disputato solo pochi giorni prima ad Asti, e che aveva visto gli azzurrini imporsi, non senza una certa fatica, per 34 a 22, con sei mete fatte e quattro subite. Giunti nel nostro paese per un tour di preparazione, che proseguirà poi in Francia, i migliori giovani del sollevante, fra cui militano due atleti di origine tongana e un sudcoreano, rappresentano il principale investimento della federazione nipponica in vista della Coppa del Mondo di Rugby, che organizzerà nel 2019. L'obiettivo del programma federale previsto è migliorare la competitività di una nazionale maggiore, già oggi al tredicesimo posto del ranking mondiale. Grazie a un movimento ovale in costante crescita, basti pensare che dopo baseball e calcio, è proprio il rugby lo sport con più praticanti in Giappone. Davanti al festoso pubblico che ha gremito le tribune dell'impianto, per lo più popolati dai piccoli protagonisti del torneo svoltosi in mattinata sui campi di via a salvo d'acquisto, i ragazzi allenati da Massimo Brunello entrano sul rettangolo verde un po' troppo rilassati, e vivono una partenza da incubo, con tre mete concesse ai nipponici nei primi 13 minuti di gioco. Colti di sorpresa dal dinamismo atletico degli avversari e sotto per 21 a 0, con un incontro che appare ormai decisamente compromesso, i giovani italiani mettono in mostra una buona determinazione, iniziano a macinare il proprio gioco e raccoglierne i frutti. Due mete nella fase finale del primo tempo ricucciano parzialmente il divario, mandando comunque i samurai negli spogliatoi al riposo in vantaggio sul risultato di 12 a 21. In avvio di secondo tempo l'Italia riporta però l'incontro decisamente incareggiata, andando a marcare la meta del 19 a 21 per poi completare la rimonta durante gli ultimi 10 minuti di gioco, quando per altre due volte riesce a varcare la linea di meta avversaria. Il doppio errore sulle conseguenti trasformazioni lascia ancora aperta qualche speranza al Giappone, che all'ultimo salto segna ancora la meta poi trasformata del 29 a 28 finale. Per la selezione dei nostri migliori under 18, che ha messo in campo nella ripresa anche il piemontese Mauro Porporato, membro dell'Accademia FIRE di Torino, il doppio confronto ha rappresentato la conclusione di un percorso di avvicinamento ai campionati europei di categoria in programma il mese prossimo in Polonia. L'appuntamento è per l'11 aprile, quando incontreremo la Francia per i quarti di finale del torneo continentale. Romano, quarto tempo ha dato ancora un altro tocco di azzurro con questa selezione, tra l'altro citavo Porporato dell'Accademia, si è giocato anche domenica l'Accademia, ha perso a Mogliano. Ho perso a Mogliano, scolto tra la prima e la seconda in classifica. Sì, è un campionato tra Accademia un po' particolare, giocano una volta ogni mese e mezzo quando va bene, però comunque registriamo anche questo... L'Accademia torinese, insomma, in qualche modo si fa valere, giusto? Assolutamente. E poi abbiamo ancora, non c'era solo Porporato, ma avevamo purtroppo squalificato Reeves, il quale è stato convocato per le selezioni a Tirenia per poter far parte della prossima Accademia, quella Ivan Francescato, e quindi è un altro piccolo fiore d'occhiello nostro. Può aprire le porte questa selezione sia all'Accademia di Tirenia o addirittura andare per vedere anche la presenza di questo atleta magari all'estero, per fare esperienza. Bene, quindi un po' di Piemonte che si fa valere, l'abbiamo già visto nel femminile, nei giovani, c'è qualcosa, stiamo crescendo, quindi anche quella seconda posizione nel campionato delle Accademie, se vogliamo un po' cenerentola, perché rispetto di fianco pensiamo a Roma, Milano, Treviso, città dove c'è una tradizione di un certo tipo, ci stiamo... Ma anche numerica è comunque... Sì, c'è anche come quantità proprio di giocatori. Bene, stiamo raccontando un po' del nostro Piemonte e ne approfitterei per dare una rapida occhiata a un po' di classifiche e calendari dei campionati... La scorsa settimana non si è giocato. ...del nostro territorio, non si è giocato, il campionato era ancora sospeso, ma si gioca nuovamente, no, forse c'è stato qualche recupero in Serie C, vero? Sì. Quindi dalla regia mi mandate le grafiche, così ci prepariamo alla sfida del Custorino in Serie A, che gioca con... va a giocare con Capoterra... Con Capoterra, l'andata aveva vinto bene, aveva vinto 46 a 3... Ecco, l'ultima, vabbè, questa ricordiamo, è ormai un po' vecchia, ma era la vittoria col Gran Sasso... Sofferta... E la prossima, la classifica che vede il curso a secondo tempo, è la prossima partita, appunto, che si gioca a Capoterra, 46 a 3, finì all'andata, una vittoria rotonda, però sul campo, a campi invertiti, credo che sarà molto più faticosa. Diamo di nuovo un'occhiata ancora alla Serie B, anche qui... E i risultati. Più che altro per anticipare, vabbè, i risultati rapidamente... Fatteli pure scorrere fino alla classifica... Il risultato, il settimo persa in trasferta col Caimani... Ecco, la classifica, la ricordiamo, con le nostre nella seconda metà della classifica, il prossimo turno, che vede arrivare a settimo il Lecco, partita già persa all'andata 25-5, a Biella arrivano i Caimani, che invece all'andata finì con un punteggio un po' anomalo per il Rarbi, un 3-3, suona poco raclistico, e il Lasti va con la sua formazione a giocare a Milano... L'importante è la partita del settimo, perché comunque si gioca poi l'aggancio possibile dell'Ecco, e quindi deve staccare e risalire ancora la classifica. Allora, andiamo avanti con le grafiche, ricerco nel monitor, perché questa settimana c'è stato il recupero a Cuneo, dove il Mac ha perso 63-0, ci sono diversi recuperi da fare in Serie C, man mano se ne... L'Alessandria ha addirittura due partite, quindi diciamo che l'avventaggio momentaneo dell'Aqui non è detto che sia così scontato. E' poco fedele. Bene, abbiamo raccontato anche delle nostre classifiche, ormai non ci rimane più molto, abbiamo parlato di ragazze. Un minuto. Qui abbiamo anche una fanciulla che ha anche giocato, è vero. Allora, innanzitutto presentati. Buonasera a tutti, sono Michele Azzola. Cognome che ho già sentito da qualche parte, c'è un papà seduto in prima fila. Tu dove hai giocato? Io ho giocato all'inizio nel Volpiano, ho giocato con i maschi fino in under 13. Come cade regolarmente fra questa, è una cosa che non aveva mai specificato. Da bambini si gioca maschi e femmine tutte insieme, non si fa differenza. Le uniche occasioni in cui i ragazzi hanno la possibilità di menare le donne. E noi non abbiamo bisogno di quote rosa, le ragazze le facciano giocare alla pari. Poi dopo Volpiano? Ho giocato un anno nel Valle d'Ora, giocavamo in Serie A, giocando insieme a una squadra del Coboleto, insieme, e poi ho giocato nel CUS, in campionato Serie A, sempre, per un anno. Adesso si occupa dei... Adesso si occupa dei ragazzini, dei più piccoli, quindi, voglio dire, avete un ottimo esempio, mi raccomando, comportatevi bene, meglio di come vi siete comportati qua stasera, sono stati un po' i requeti, non so se da casa si sia notato, ma anche i genitori, ma vabbè, questo poi... Facciamo i conti a trasmissione chiusa, e quindi fra un attimo, perché siamo davvero ai saluti finali, io ringrazio davvero il Volpiano e l'entusiasmo che ci ha portato in studio, complimenti per la vostra attività, e grazie. Grazie a voi. Romano. Ciao Riccardo, alla prossima. Buona settimana. Buona settimana che vi è. Auguri ancora... Auguri a tutti, papà, anche il mio, che mi guarda tutte le settimane, sono uno spettatore più fedele. Noi ci vediamo la prossima settimana, non avremo più dell'azzurro, ma ci tufferemo davvero nel nostro Piemonte per raccontarvi ancora storie ovali. Alla prossima. Un offload. Un offload. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.